Gli straordinari progressi compiuti dalla biologia evoluzionistica nel corso del Novecento hanno animato un dibattito che si è esteso oltre l'ambito scientifico. Talvolta i principali risultati sono stati interpretati in modo fuorviante, tanto da offuscare quella che può essere definita la più bella storia del mondo, l'evoluzione della vita sulla Terra. Vorrei pertanto descrivervi le principali tappe di questa affascinante avventura, per poi illustrarvi i ruoli apparentemente contrapposti di competizione e cooperazione nel plasmare le infinite forme bellissime e meravigliose di cui ci parla Darwin alla fine dell'origine delle specie. Ma in che cosa consiste l'evoluzione della vita? Ricorrendo a una semplificazione possiamo definirla un processo secondo cui gli organismi viventi sarebbero emersi dalla materia inanimata attraverso uno o più meccanismi di auto-organizzazione, per poi evolvere in quella straordinaria varietà di specie che definiamo biodiversità. Questo evento ha richiesto un enorme lasso di tempo, ma la storia geologica della Terra ha potuto offrire alla vita quello che, già nel Settecento, James Hutton definì tempo profondo. Le stime più attendibili fanno risalire l'origine della Terra a circa 4,5 miliardi di anni fa, sperduto pianeta del sistema solare di una delle innumerevoli galassie che compongono l'universo. La prima fase dell'evoluzione della vita, in gran parte congetturale, è stata definita prebiotica. In un ambiente del tutto inospitale si formarono le prime molecole organiche. In presenza di acqua si produssero amminoacidi, zuccheri, lipidi, basi azotate e altre piccole molecole che sono state definite brodo primordiale. Comunque sia, per 0,8 un miliardo di anni, con ogni probabilità, questo pianeta non ospitò alcuna forma di vita. Sulla scorta di testimonianze fossili ricavate da rocce molto antiche, note come stromatoliti, si ritiene che le prime forme di vita possono essere apparse 3,5-3,7 miliardi di anni fa. Si originarono semplici organismi unicellulari, appartenenti ai domini dei bacteria e degli archaea, tutti privi di nucleo, cioè procarioti. Come mirabilmente dimostrato da William Shove, alcune di queste forme fossili, denominate cianobatteri, sono molto simili a specie attuale. Ciò suggerisce che l'evoluzione non sia un semplice processo lineare che porta a organismi complessi, senza escludere, peraltro, che qualche forma di vita possa essere giunta dallo spazio portata da meteoriti, secondo un'autica ipotesi denominata panspermia. Questi organismi divennero ben presto i dominatori del precambriano, tanto che il paleontologo di Harvard, Stephen Jay Gould, non ha esitato a definirli i dominatori della biosfera. Esistevano 3,7 miliardi di anni fa, sono tuttora gli organismi più diffusi, saranno ancora presenti quando noi non ci saremo. Comunque sia, questi procarioti sono responsabili di fondamentali eventi nella storia della vita. I cianobatteri, essendo dotati di un apparato fotosintetico capace di liberare ossigeno, circa 2 miliardi di anni fa causarono un drastico cambiamento nella composizione dell'atmosfera, che da riducente, ossia con poco ossigeno, si tramutò in ossidante, cioè ricca di questo elemento. In tali condizioni, la respirazione, intesa come un meccanismo per produrre energia, fu potenziata, perché le molecole utilizzate come substrato erano degradate con una migliore efficienza dai batteri aerobi. Il secondo straordinario evento concerne la nascita delle prime cellule eucariote, cioè gli eucaria, uno dei più problematici enigmi nella storia della biologia evoluzionistica. Questo mistero fu in parte risolto da una grande microbiologa, Lynn Margulis. Sulla base di precedenti intuizioni, ella ripropose l'originale rivoluzionario meccanismo denominato endosimbiosi, che spiega molto bene l'origine di mitocondri, sede della respirazione, e cloroplasti, sede della fotosintesi. L'idea è molto semplice e intuitiva. In un mondo di procarioti, dove la cellula più grande mangia, o meglio, fagocita la più piccola, accadde che alcune di queste cellule fagocitate, invece di essere degradate, iniziarono una convivenza che ha radicalmente cambiato la storia della vita. Ebbene, nell'attuale clima accademico, caratterizzato da un'ossessiva attenzione per la valutazione della ricerca, è utile ricordare che il lavoro della Margulis fu rifiutato da 15 riviste, prima che ne fosse capito il valore innovativo e ne fosse approvata la pubblicazione. L'ossigeno e le cellule eucariote poterono poi innescare una nuova grande transizione, il passaggio da organismi unicellulari, o al più coloniali, a quelli pluricellulari. I primi tentativi si verificarono già verso la fine del precambriano. In particolare mi riferisco a specie a corpo molle che formavano la fauna di Ediacara, in Australia, nonché alghe e invertebrati della fauna di Doshantuo, in Cina, a testimonianza di una pluralità di tentativi e di contingenze ambientali. Tuttavia questi organismi non ebbero un grande successo. Dobbiamo così attendere il periodo cambriano, circa 543 milioni di anni fa, per assistere a un'incredibile fioritura di forme di vita o radiazione adattativa. In un arco di tempo relativamente breve si originò una moltitudine di specie pluricellulari, i cui fossili ci rivelano tutti i tipi di piani corporei a noi noti. Questa incredibile scoperta risale al 1909, quando Charles Doolittle Walcott organizzò una serie di scavi in un sito della British Columbia, in Canada, denominato Barge's Shell. Divenne ben presto palese che ci trovavamo di fronte a uno dei più importanti ritrovamenti nella storia della paleontologia. Per sottolinearne l'importanza, Gould affermò che la storia della vita animale, dopo il cambriano, consiste in poco più che semplici variazioni anatomiche su temi già apparsi. Successivamente, grazie al lavoro di due dottorandi, Simon Conway Morris e Derek Briggs furono accuratamente riclassificati i fossili scoperti da Walcott. Tra questi compare anche un piccolo cordato, apparentemente un verme, che Conway Morris denominò Picaia gracilens. Il suo piano strutturale è in sostanza quello dei precursore di tutti i vertebrati e quindi anche dell'uomo. Dopo questo evento, giustamente definito esplosione del cambriano, nell'arco di mezzo miliardo di anni la vita poté dispiegarsi nell'acqua e infine sulla terraferma, fino ai nostri giorni. Non è stato un percorso facile verso la complessità. Certamente apparvero numerose specie appartenenti a differenti gruppi di organismi marini, poi anfibi, insetti, rettili, fino a giungere agli uccelli e ai mammiferi, in un percorso sempre strettamente legato a vari giardini dell'Eden, popolati sulla terra emersa da briofite, pteridofite, gimnosperme e infine da angiosperme. Questa storia è stata però segnata anche dai mani catastrofi, come documentato da David Raup dell'Università di Chicago. Nel solo lasso di tempo che va dal cambriano ai giorni nostri sono state descritte cinque grandi estinzioni di massa. Quella occorsa verso la fine del Permiano, circa 248 milioni di anni fa, comportò la scomparsa di oltre il 90% delle specie note. Ancora più importante, almeno per noi, fu quella verificatasi durante il Cretaceo, circa 65 milioni di anni fa. Probabilmente causata da una meteorite, determinò la scomparsa dei dinosauri e l'ascesa dei mammiferi, rendendo possibile la successiva apparizione dell'uomo. Prima un cespuglio di ominidi, poi da non più di 13 mila anni, solo Homo sapiens, la nostra specie. La più attendibile spiegazione scientifica dell'evoluzione della vita rimane la teoria darwiniana per selezione naturale, definita anche adattazionismo. L'artefice di questa straordinaria rivoluzione, un cambiamento di paradigma, è stato Charles Robert Darwin. Dopo un viaggio di circa cinque anni attorno alla terra sul brigantico Beagle, e dopo più di vent'anni di studio e riflessioni sui dati raccolti, Darwin pubblicò nel 1859 il suo capolavoro, l'origine delle specie per selezione naturale, la cui prima edizione fu esaurita in un sol giorno. Questa teoria si basa su due assunti. In primo luogo, che all'interno di una popolazione coesistano forme diverse per uno stesso carattere, con differenti capacità adattative, cioè di fitness, si dice. In secondo luogo, che su questa variabilità fenotipica agisce la selezione naturale. Operando una cernica, essa conduce alla sopravvivenza del più adatto, il quale potrà così avere una prole più numerosa. Anche se Darwin non ne conosceva le modalità, questo meccanismo implica che questi caratteri siano trasmissibili da una generazione all'altra. Ma la storia della vita non è riducibile solo a continui cambiamenti lungo una stessa linea evolutiva. È anche una storia di continue biforcazioni, di divergenze che danno origine a nuove specie e quindi a nuove linee evolutive. Da questo modello, come intuito da Darwin, si possono inferire due importanti conseguenze. La vita ha un'unica storia. Da un progenitore comune, ora identificato con l'acronimo LUCA, ovvero Last Universal Common Ancestor, la vita si sarebbe dispiegata lungo la storia geologica della Terra per dare origine alle straordinarie forme che ora ci appaiono filogeneticamente interconnesse nell'albero della vita. Simile poetica visione è stata confermata da studi di genomica comparata, da cui si è potuto evincere che circa il 40% dei geni di Homo sapiens ha un'origine batterica e il 90% del nostro genoma è identico a quello degli scimpanzè. Non paventiamoci comunque, ci sono delle significative differenze tra noi e gli scimpanzè. La seconda conseguenza riguarda il modello evolutivo, che per Darwin è descrivibile come un processo continuo e progressivo, basato sull'accumulo di mutazioni genetiche favorevoli, responsabili dell'insorgere di nuovi caratteri. Ebbene, come vedremo, su questo aspetto il dibattito è ancora aperto. Nell'origine delle specie Darwin prudentemente evitò di parlare dell'uomo. A questo delicato tema dedicò la sua seconda opera, l'origine dell'uomo del 1871, in cui descrisse un secondo meccanismo evolutivo. Accanto alla selezione naturale, egli suggerì la selezione sessuale, incentrata sulla scelta del partner. Questo argomento, era ad attenderselo, alimentò un forte dibattito che è giunto fino ai nostri giorni. Se ora ci immergiamo nel clima vittoriano e sostanzialmente creazionista dell'Inghilterra ottocentesca, o più in generale dell'Occidente, possiamo cogliere un misto di sbigottimento ed entusiasmo per questa nuova visione. Come ogni grande rivoluzione scientifica, la teoria darwiniana risentì del contesto culturale allora dominante in Inghilterra, un paese che aveva intrapreso un'industrializzazione selvaggia e un'altrettanto dirompente espansione coloniale. In questo clima Darwin scoperse l'opera dell'economista Thomas Malthus, che si tramutò in una vera e propria epifania, comprese che finalmente aveva una base teorica su cui lavorare. Secondo Malthus, la popolazione umana continua a crescere finché le risorse di alimenti sono sufficienti, dopodiché i più svantaggiati sono destinati a soccombere. L'intuizione di Darwin consistette nell'estendere questo modello dalla società umana ai regni vegetale e animale. Questa interpretazione fu resa ancora più radicale quando Darwin, ispirandosi a Herbert Spencer, fautore di un liberismo sfrenato, parlò di lotta per la sopravvivenza, anche se più tardi se ne pentì. D'altro canto, Spencer ha sfruttato a proprio vantaggio un'interpretazione impropria del darwinismo per giustificare la sua brutale teoria economica. Purtroppo una distorda lettura della storia della vita e del darwinismo incombe anche i nostri giorni. Le sue forme più noto sono la sociobiologia e la psicologia evoluzionistica, che vorrebbero ridurre tutti i fenomeni sociali a un'interpretazione di tipo darwiniano. A mio avviso è una prospettiva che non può essere accettata, perché trasformerebbe una legittima teoria scientifica in ideologia. Ciò non preclude che questa teoria, proprio per il suo grande valore euristico, possa essere utilizzata anche in altri campi della conoscenza e, più in generale, per capire la società. Può bastare un semplice esempio, la cultura. È ormai evidente che l'uomo modifica il suo ambiente, cioè la sua nicchia, a proprio vantaggio, facendo ciò accresce le sue possibilità di sopravvivenza, influendo così sulla sua stessa traiettoria evolutiva. In questa intersezione tra natura e cultura è forse bene sfatare un altro luogo comune, dilagante non solo nel mondo accademico, la ricerca dell'eccellenza. A parte il fatto che questo termine è spesso utilizzato in chiave autoreferenziale, la natura non ricerca l'eccellenza, perché un organismo perfetto in un dato contesto soccomberebbe a fronte di modifiche dello stesso. Molto più efficace è l'immagine di una natura un po' imperfetta che agisce come un artigiano, un bricoleur, utilizzando l'elegante e metafora di François Jacob. Il messaggio è chiaro, è importante essere bravi, forse ottimi, mai eccellenti. Riprendiamo ora il nostro filo conduttore, il darwinismo. Questa teoria è stata criticata anche da vari studiosi. Ciò non deve stupire, è il sale della scienza. Così, all'inizio del novecento, il darwinismo dovette superare l'apparente conflitto con la nascente genetica mendeliana. Questo contrasto fu, però, brillantemente superato nella prima metà di quel secolo. Vi contribuirono due gruppi di scienziati, da un lato dei matematici genetisti, Fischer, Helden, Wright, dall'altro diversi naturalisti, Meyer, Dobzhansky, Stebbins, Axley, Simpson. Alla fine di questa rivisitazione, il darwinismo ne uscì corroborato all'interno della nuova sintesi o neodarwinismo. Questa nuova teoria fu recepita quasi come un dogma, almeno fino al 1972, quando due coraggiosi paleontologi, Niles Eldredge e Gould, introdussero la teoria degli equilibri punteggiati. Diversamente da Darwin, che concepiva l'evoluzione della vita come un fenomeno continuo e progressivo, essi la descrissero con un modello discontinuo, segnato da lunghi periodi di stasi, dove le specie rimangono sostanzialmente stabili, interrotti, cioè punteggiati, da brevi periodi in cui compaiono nuove specie. Accolta come un'eresia, questa teoria fu duramente combattuta dai neodarwinisti, ma ebbe il merito di aprire un confronto, si badi bene solo sul meccanismo, tra i biologi evoluzionisti, che Eldredge non tardò a definire il dibattito alla tavola alta dell'evoluzionismo. Proprio alla vigilia del centenario della morte di Darwin, Gould e Richard Le Wanting, in un saggio pubblicato nei prestigiosi Proceedings della Royal Society, sferarono un dur attacco alla concezione puramente adattazionista del darwinismo, che ironicamente paragonarono all'atteggiamento assunto dal dottor Pangloss. Personaggio del Candide di Voltaire, egli asseriva di avere il naso per portare gli occhiali. Ispirato dalla visione dei pennacchi, o spenderals in inglese, della cupola della Basilica di San Marco, Gould sostenne che alcune strutture degli organismi non hanno sempre un immediato significato adattativo. Possono essersi evoluti per svolgere un'iniziale funzione, ma poi sono state cooptate o exaptate, dall'inglese exaptation, per svolgerne un'altra. Ad esempio, le piume degli uccelli si sono inizialmente evolute come mezzo di termoregolazione del corpo, ma poi furono cooptate e exattate come strumento di volo. Questi contributi hanno permesso di estendere le chiavi di lettura del processo evolutivo. Ora si confrontano due linee di pensiero. Da un lato vi sono gli ultradalvinisti, i quali ritengono che l'evoluzione sia totalmente spiegabile con il binomio variazione fenotipica selezione naturale, con i geni al centro del processo. Dall'altro lato vi sono i pluralisti, ora confluiti nel programma denominato sintesi estesa, i quali a loro volta ritengono che, accanto alla spiegazione darwiniana, vi siano anche altri fattori, simbiogenesi, vincoli strutturali, cooptazione, eccetera. Particolare rilevanza assume l'approccio evodeo, cioè biologia evolutiva dello sviluppo, mirabilmente descrittoci da Alessandro Minelli in Le forme del divenire. Nel promuovere una sintesi tra biologia dello sviluppo e biologia evolutiva, Evodevo ci ha rivelato che l'evoluzione è soggetta a vincoli strutturali, non tutte le forme sono possibili, e spesso utilizza moduli, cioè strutture precostituite, nell'originare nuove forme. Tutte queste modalità comunque non sfuggono alla selezione naturale, la quale rimane il più efficace filtro della vita. Ciò che le differenzia è il processo sotteso per giungere ai nuovi caratteri, oppure le loro modalità di utilizzo. La competizione rimane comunque un meccanismo fondamentale per la selezione naturale, benché, come ora cercherò di illustrare, altrettanto potente si rivelerà quello basato sulla cooperazione. Il filosofo teologo ebreo Martin Buber, parafrasando l'inizio del Vangelo di Giovanni, ha affermato, in principio era la relazione. In effetti, se riflettiamo solo un attimo, ci rendiamo conto che questo concetto pervade tutta la natura, e in particolare i fenomeni vitali. Anche la stessa competizione implica una relazione, seppur di tipo conflittuale. Ma questo principio diviene ancora più rilevante se lo consideriamo nel contesto della cooperazione. Il suo ruolo nella storia della vita fu suggerito da Pierre Kropotkin, anarchico e biologo russo, che intravvide nel mutuo soccorso la forza propulsiva dell'evoluzione. La cooperazione tra specie diverse e all'interno di una specie è sempre stata recepita come un'eresia dai neodarwinisti, che, con argomentazioni talvolta discutibili, hanno cercato di ricondurla a forme mascherate di competizione. Eppure lo stesso Darwin si era già posto il problema e lo aveva in parte affrontato osservando il comportamento di animali che manifestano stili di vita sociali, anche se, a dire il vero, in pochissime linee evolutive, tra le quali vi sono gli insetti sociali e, naturalmente, l'uomo. Tuttavia, se la cooperazione viene intesa in senso estensivo, priva di una connotazione antropomorfica, essa diviene un principio che opera a diversi livelli di scala, dalle molecole fino alle società umane. Questo nuovo approccio è stato ora fortemente rivalutato ed esteso da un brillante matematico biologo, Martin Novak. L'interesse di questo studioso per la cooperazione risale agli anni 90 del secolo scorso, quando, prima a Vienna e poi a Oxford con Bob May, sviluppò i primi modelli. Dopo quasi vent'anni giunse a formulare cinque modalità, descritteci in un articolo apparso nel 2006 sulla rivista Science e ora divulgate in un appassionante libro, Super Cooperatori. Esse sono la reciprocità diretta, la reciprocità indiretta, i giochi spaziali, la selezione di gruppo e la selezione di parentela, tutte corroborate da dimostrazioni basate su rigorosi algoritmi e simulazioni computazionali. Il primo meccanismo, la reciprocità diretta, si ricollega al ben noto gioco definito dilemma del prigioniero. Discussa per anni, questa strategia fu inquadrata nella storia della vita da Robert Privers e identificata pure con Tid for Tat. In altri termini, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Il meccanismo si basa su ripetuti incontri tra due persone, le quali, attraverso promesse mantenute o non mantenuto, capiscono se chi hanno di fronte è un cooperatore oppure un defezionista. Si tratta di una strategia che, massimizzando il proprio vantaggio, porta razionalmente quasi sempre al tradimento, cioè alla defezione. Allora dobbiamo chiederci perché si è evoluta la cooperazione? Lo capiremo tra poco. La reciprocità diretta ha un limite palese, si realizza solo tra due individui, che non sono rappresentativi di una popolazione. Questa difficoltà è stata girata dal meccanismo di reciprocità indiretta, una modalità introdotta da Richard Alexander. In questo caso, dei soggetti interagiscono uniformemente tra di loro, stabilendo relazioni di tradimento oppure di cooperazione. Da questo scenario, prima o poi, emergerà la figura che ha una migliore reputazione, cioè colui che defeziona o tradisce di meno. Beh, oserei dire, un vero leader. Questo atteggiamento non è però una novità. Se due millenni fa l'Evangelista Luca, al versetto 638, potè affermare, date e vi sarà dato. La scacchiera della vita fa il suo ingresso con i giochi spaziali, che a loro volta sopperiscono a un ulteriore limite, l'omogeneità del modello di reciprocità indiretta. Questo nuovo approccio trova il suo fondamento nei lavori di Stephen Wolfram, il quale implementò al computer gli studi teorici di fisici statistici relativi al concetto di automa cellulare, inteso come sequenza astratta di celle programmate per eseguire regole di massa, cioè dei rabò. Sulla base di queste premesse, Novak ha dimostrato che, in un mondo strutturato a tre dimensioni, la cooperazione può emergere spontaneamente, per prosperare anche in assenza di momenti pensanti, ad esempio tra semplici molecole. In questo caso, i gruppi che cooperano possono prevalere sui defezionisti anche se accerchiati. Potremmo dire l'unione fa la forza. La cooperazione in tal modo produce complessità su cui successivamente agisce la selezione naturale. Siamo così giunti al quarto modello, la selezione di gruppo. Intuito già da Darwin, questo meccanismo fu reintrodotto nel 1962 dallo zoologo-ecologo Vero Wayne Edwards. Questa proposta scatenò un confronto che è giunto fino ai nostri giorni. In breve, gli organismi di un gruppo che cooperano al loro interno hanno una fitness superiore a quelli di gruppi in cui la collaborazione è scarsa. Questo modello introduce una novità. La selezione può operare a più livelli, di individuo e di gruppi. La selezione di gruppo è ora supportata anche da prove empiriche. Questa visione gerarchica della selezione naturale fu peraltro suggerita da Gould e Elisabeth Durba ancora nel 1982 ed estesa da Eva Iablonca e Marion Lamb in l'evoluzione a quattro dimensioni, dove sono descritti quattro livelli genetico, epigenetico, comportamentale e per quanto riguarda l'uomo simbolico. Il quinto e ultimo modello è rappresentato dalla selezione di parentela o keen selection. L'idea fondamentale è molto semplice. Fu enunciata con una spiritosa espressione dall'eclettico John Helden. Sono pronta a sacrificare la mia vita per salvare due fratelli, oppure otto cugini. Questo approccio rigorosamente genetico parentale fu ripreso da John Maynard Smith e poi formalizzato da William Bill Hamilton, che lo espresse in una semplice formula, R maggiore di C fratto B, dove R è il coefficiente di rapporto di parentela, C il costo e B il beneficio. Non vi è dubbio che questo modello risente della visione genecentrica resa famosa da Richard Dawkins nell'ormai celebre il gene egoista. Secondo Dawkins, al centro della vita vi sono solo i geni che, come tiranni, perpetuano se stessi utilizzando i corpi come semplici vettori. La selezione di parentela, anche se apparentemente plausibile, è ora fortemente criticata da Luigi Luca Cavalli Sforza, che ne ha messo in luce i limiti. Ma anche chi, come Edward Wilson, l'aveva accolta e difesa, l'ha ora abbandonata. Un cambiamento di fronte che gli è costato una dura reprimenda da parte di Dawkins. Come suggerito da Novak, la selezione di parentela è probabilmente valida solo in alcuni casi. Se ora ripercorriamo alcune tappe della storia della vita, ci rendiamo conto che la cooperazione ha svolto un ruolo decisivo accanto alla competizione. Già nel brodo primordiale, semplici molecole poterono cooperare, unirsi insieme, per formare macromolecole capaci a loro volta di autoassemblarsi per formare quella piccola quantità di materia organizzata che definiamo cellule, in grado di ricavare energia dall'ambiente per vivere, riprodursi e alla lunga anche evolvere. Fiorirono così i primi procarioti, che poi, con una straordinaria transizione dalla competizione alla cooperazione, permisero la nascita di cellule eucariote, da cui si formarono gli organismi pluricellulari. Non si è trattato sempre di un processo verso la complessità. Ce lo testimoniano i sanobatteri descritti all'inizio. Sicuramente questo processo è stato segnato anche da eventi casuali, dalla contingenza e dall'emergere di proprietà nuove, non riducibili alle loro componenti, nonché da rotture di simmetria. Si pensi, in quest'ultimo caso, a un fiore a simmetria raggiata rispetto a un fiore a simmetria bilaterale. Si tratta di modalità che sfuggono, questo è importante, al determinismo biologico, ma che nel contempo arricchiscono la creatività della vita. Possiamo allora affermare che More is different, di più è diverso, utilizzando il titolo di un articolo del 1972 di Philip Warren Anderson, apparso su Science, una pietra miliare nella storia della scienza. Solo negli ultimi tre minuti di questo percorso è comparso un cespuglio di hominidi, se rapportiamo la storia della Terra a 24 ore. Nei due secondi finali è emerso pure Homo sapiens, per il quale il ruolo della cooperazione è divenuto più complesso e talora problematico. Nella storia dell'umanità, la nascita del linguaggio, occorsa negli ultimi 600.000 anni, è forse il più strabiliante evento della sua evoluzione. È il passaggio che di più ha contribuito a definirne le peculiarità. Il linguaggio, frutto dell'abilità di assemblare simboli fonetici, deve essersi evoluto con la necessità di cooperare in società che divinino sempre più articolate. Ma il linguaggio, come sottolineato dal paleoantropologo Jan Tattersall, ebbe un ruolo cruciale anche nella nascita del pensiero cognitivo e simbolico, dato che consentì la produzione di un numero infinito di affermazioni utilizzando un numero finito di elementi, la porta d'ingresso verso la poesia e la narrativa. Questa grande scoperta fece da catalizzatore di altre rivoluzioni nella storia dell'uomo, prima fra tutte l'agricoltura in almeno 10 diversi siti sparsi sulla terra. Circa 10.000 anni fa l'uomo poté così sostanzialmente lasciare la sua vita di cacciatore e raccoglitore per diventare un agricoltore allevatore. La scoperta dell'agricoltura appare legata a un utilizzo diffuso di tecnologie. Prima di allora però già Homo habilis si era ingegnato a costruire vari utensili atti a risolvere problemi di sopravvivenza, ma poi con Homo sapiens anche oggetti che miravano a soddisfare esigenze estetiche. Possiamo perciò affermare che le tecnologie da quasi 100.000 anni hanno accompagnato la storia dell'umanità. Si è trattato di un percorso che, secondo William Brian Arthur, è avvenuto attraverso meccanismi che ricordano in parte l'evoluzione biologica. Le nuove tecnologie sono infatti molto spesso costruite a partire da altre preesistenti, per semplici riadattamenti, attraverso un processo combinatorio e cumulativo che appare inarrestabile. Questa transizione legata a un uso intensivo di tecnologie rese possibile la nascita di società che espressero grandi culture e religioni. Certamente si trattò di un passaggio che richiese un ulteriore livello di cooperazione, ma dobbiamo ammetterlo con franchezza anche tutta una serie di problemi che ora dobbiamo affrontare in modo non di rado drammatico. Che cosa possiamo dire giunti a questo punto sul binomio competizione versus cooperazione? La competizione è indubbiamente uno dei motori della storia della vita. Forse però l'uomo l'ha fatta degenerare, trasformandola in uno strumento per la conquista di un potere spesso fine a se stesso. Se la competizione così intesa è finalizzata al solo successo, inevitabilmente ci porterà a un suicidio collettivo. Come sottolineato da Novak, la vita intelligente è fragile, non sembra durare a lungo. Ecco perché l'uomo deve ritrovare il senso profondo della cooperazione presente nella natura, perché solo l'uomo è stato capace di trasformarla in solidarietà, nel dono di sé, in amore per il prossimo. Ce lo testimoniano diverse culture, tutte ruotano attorno alla regola aurea del non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, comune alla cultura greca, al cristianesimo, all'ebraismo, all'induismo, al buddismo e al taoismo. A mio viso ciò implica anche una capacità di andare oltre le apparenze e di trascendere la realtà. In tal modo la cooperatività che traspare dallo studio della natura può assumere un nuovo significato, cioè essere la fonte di un nuovo etos, perché, come affermato da Novak nelle battute conclusive del suo avvincente libro, le civiltà che avranno risolto il problema della cooperazione sopravvivranno nel cosmo. Quello che possiamo fare è solo sperare che l'elenco dei super cooperatori di successo includa quelle forme di vita basate sul carbonio che chiamiamo esseri umani. In questa grande avventura ognuno ha un ruolo da svolgere. il successo dipende da tutti. Dopo aver letto questo invito mi sono ricordato di un passo di profonda saggezza biblica, quando il profeta Geremia, al versetto 21-18, afferma «Ecco, metto davanti a voi la via della vita e la via della morte». Desidero concludere questa mia prolusione dedicandola a tre grandi straordinari super cooperatori che hanno fatto parte della rete della mia vita. Ernesto Illi, dottore onoris causa dell'Unità di Udine, Erasmo Marrè, fondatore della fisiologia vegetale italiana e Don Gilberto Pressacco, studioso del cristianesimo aquileiese. Grazie per la vostra pazienza e attenzione. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti.